C'è grande attesa per la quarta edizione di Run for Children, una corsa che avrà luogo domenica 3 dicembre a partire dalle 10. Tutti i partecipanti, c'è ancora possibilità ovviamente per iscriversi, si ritroveranno dal terminal croceristico. Ma quali sono le caratteristiche di questo evento? L'evento sarà sviluppato su un percorso tutto sul mare, come lo scorso anno. Sono circa 5 chilometri che verranno fatti sia dai competitivi che dai non competitivi. A seguire partirà la Dog for Children, giusta arrivata alla seconda edizione. Il percorso per gli amici a quattro zampe al guinzaglio con il loro padrone sarà solo di un chilometro lungo la passeggiata Morin. Per quanto riguarda la corsa madre della Run for Children, partendo dalla stazione marittima, il percorso si svilupperà tutto su passeggiata Morin per uscire poi su Via L'Italia, entrare alla rotatoria di Via L'Amendola all'interno del porto Mirabello, percorrere tutto il porto Mirabello, per uscirne dal ponte Town di Revelle, per poi sulla passeggiata Morin, arrivando fino al Faro, al Molo Italia, e rientro alla stazione marittima. Ecco, da sottolineare ovviamente l'aspetto benefico che c'è dietro l'organizzazione di questa iniziativa, perché ogni anno vi impegnate per fare proprio una donazione al reparto di pediatria. Tutto l'incasso verrà devoluto alla pediatria, gli amici podisti runner lo potranno fare direttamente partecipando alla manifestazione, grazie anche allo spezia calcio che ha rinnovato il contributo con dei gadget abbiamo potuto fare nuovamente una lotteria abbinata alla Run for Children e pertanto da lì anche una donazione da parte di coloro che con la domenica non potranno essere presenti oppure amando altri sport, però in ogni caso avranno la possibilità di poter donare con due euro acquistando un biglietto che fa parte di questa lotteria. Tra le novità di quest'anno, di questa edizione, il progetto Giovani dove i protagonisti saranno proprio i più piccoli. Esatto, quest'anno facendo anche uno sforzo organizzativo perché non è facile gestire tanti bambini, cercheremo di fare una gara riservata a loro, siccome la rara pulcente è per i bambini della pediatria, noi ci mettiamo tutto l'impegno affinché si raccolga più fondi per questi bimbi, mi sembra giusto dedicare uno spazio anche a loro. Faremo una staffetta di mille metri con quattro partecipanti, speriamo che venga tante scuole. Siamo con alcuni dei piccoli partecipanti alla Run for Children, sappiamo che ti piace molto la corsa perché fai anche atletica, ecco quando hai iniziato a fare questo sport e cosa ti piace di più? Allora ho iniziato l'anno scorso a sottobre, lo faccio un po' per liberarmi, per sfogarmi, per fare cose che non posso fare la giornata, poi anche perché è bellissimo.